Atara Las, un brand che con la sua firma olfattiva ci fa immergere nella cultura orientale tra spezie e odori con la rappresentazione di 15 fragranze tra eau de parfum ed extra. Andiamole a scoprire. Di solito ci piace parlare di un best seller, ma in questo caso è stato veramente difficile trovarne uno. Quindi vi parleremo delle due fragranze che sono andate subito sold out. La prima, Flirt Tabac, questo tabacco reso più morbido, sensuale dalla presenza di assoluta divaniglia, fava tonka, ambra e muschio. La seconda, una fragranza che ho amato sin dal primo istante, Skin Mask, una semplice si può dire nota di pulito che rimane su pelle per tutta la giornata e che fa girare chiunque ti passi accanto. Estremamente sensuale ed estremamente versatile. Per tutte le fragranze di Atara Lhasa e tutti gli altri brand vi aspetto in store e sul nostro sito profumereanor.it senza dimenticare della nostra promo.